ragazzi la macchina l'abbiamo parcheggiata il conte è qua siamo arrivati all'hotel aria di mare guardate sembriamo alle bahamas no vabbè e siamo a marina siamo a marina di ragusa viale andrea doria hotel aria di mare ora entreremo il conte e il conte proverà questo dai che ci stanno camere libere essendo libere che se ne fanno sì ma tu ti devi fare dare quella più da conte se sono libere le tengono vuote vabbè ragazzi guardate intanto che posto fantastico marina di ragusa hotel aria di mare no vabbè quel tempo che conte prende bagagli scelto chi vi pare che mi chiamava io scelto vabbè va mi dirò anche il bagaglio scelto non so se la macchina qua può stare vabbè vedremo ora entriamo il conte sta entrando certo l'hotel OHR aria di mare sta spiando ok possiamo andare come on come on chiudi la porta tu che c'è i bagagli salve buonasera buonasera grazie scelto io non sono mai stato qua no come c'è la parcheggio è carino diciamo è carino scelto ma tanto che sono libere una me la da scelto a pagamento ma devi pagare ma che c'entra ma intanto sono libere che si pigliono di polvere di tanto vale che vediamo una bella però vista mare cose turche il meglio che andiamo grazie vabbè ragazzi a tra poco saluta 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 ecco adesso an